Giornata di Santa Barbara, il patrono di Vigili del Fuoco rappresenta anche l'occasione per fare un bilancio di quello che è stato l'ultimo anno, comandante Vigili del Fuoco sempre in prima linea. Quest'anno in linea con gli anni passati abbiamo svolto le nostre attività sia su soccorso pubblico che sulla prevenzione incendi. Quest'anno non c'è stata l'emergenza, calamità particolari che hanno contraddistinto questo territorio della provincia di Chieti come il terremoto o l'emergenza neve che abbiamo avuto negli ultimi due anni, però ovviamente gli interventi sono sempre quelli che caratterizzano il soccorso tecnico urgente. L'ordinaria emergenza di ogni giorno contraddistingue proprio il lavoro dei Vigili del Fuoco, quindi anche se non ci sono state calamità particolari in questo territorio per fortuna, a differenza di quello che è successo nel resto d'Italia purtroppo, però l'intervento giornaliero è quello che consente a tutti i cittadini di stare tranquilli e di segnalare qualsiasi tipo di situazione di pericolo anche presunto per poter offrire il nostro intervento al loro sussidio. Quella di oggi è stata anche una giornata di riflessione, è stata ufficiata la Santa Messa dall'Arcivescovo Monsignor Bruno Forte che ha speso delle parole importanti per il Corpo dei Vigili del Fuoco e per il Comando Provinciale di Chieti. Sì, lo ringrazio pubblicamente perché le belle parole di Monsignor Forte sono di sprone per tutto il personale, quindi sentirsi così benvoluti dalla popolazione e anche dalle istituzioni è lo stimolo che muove l'attività di ogni Vigili del Fuoco.